Musica Benvenuti da One Piece Massimi Esperti in questo nuovo video teoria di approfondimento. Oggi parleremo dello spadaccino della nostra ciurma, cioè l'oronoa Zoro. In arte Shimotsuki, forse. Scopriremo essere un discendente di Wano Kuni, molto probabilmente. Però prima di iniziare il video vi ricordo che già facevo una live il 19 maggio scorso e un video appunto il 13 settembre, dove molte delle nostre relazioni poi sono state confermate da Oda. Comunque trovate questi due video nel link in descrizione o nelle schede. La saga di Wano Kuni si è aperta con un fendente di Zoro ed abbiamo pronosticato che essa si concluderà allo stesso modo, ossia con un altro fendente di Zoro. Ancora di più ora, visto che possiede la Enma, la spada leggendaria di Oden, una delle due spade leggendari di Oden. Per quell'avvenimento, in sottofondo, abbiamo ascoltato la melodia di Komurasaki, che in realtà è Iori, e molto probabilmente essa è proprio la melodia della Principessa della Luna. Sinfonia che Iori suonava già a suo padre in passato, a Oden Kozuki, nel capitolo 973, quando era solo una bambina. Speriamo quindi di riascoltare questa musica e questa melodia alla conclusione dell'ultimo atto di Wano Kuni, quando si calerà il sipario e si celebrerà così, perché no, il funerale dello stesso Oden, che era stato stesso lui a chiedere a sua figlia di suonarlo quando sarebbe morto. Quindi vedremo questa scena. E adesso passiamo ai riferimenti storici. Un riferimento ad una figura storico-legendare del Giappone feudale. La storia di Yoshitsune Minamoto, il quale ha fatto un parallelismo tra lui e Zoro. Infatti, molti personaggi hanno tentato di ripetere varie imprese per imitare il grande Yoshitsune Minamoto, come in One Piece, Zoro impara a tagliare l'acciaio quando riesce volutamente a non tagliare le foglie, proprio come fece Minamoto. Si narra che Yoshitsune era l'ultimo figlio del signore della guerra Minamoto no Yoshitomo. Imparò sul monte Kurama l'arte del Kenjutsu, dal re dei Tengu, Sojobo, in One Piece e Tenguyama Itetsu, il forgiatore di Kadane. Infatti, tramite Itetsu Tengu, discendente dei forgiatori delle spade Kitezu, Zoro ha ricevuto nuove informazioni sulle famose spade. C'è un riferimento anche tra Yoshitsune Minamoto e Benkei, rappresentato dallo scontro tra Zoro e Yukimaru sul ponte. Si narra, tra le varie leggende, che il giovane Yoshitsune Minamoto, grazie all'aiuto della figlia dello stregone, Kiichi Hogen, riuscì a rubare i due leggendari volumi di tattiche belliche, Rikuto e Sanryaku, il libro della tigre. Noi sappiamo che in One Piece, Zoro è raffigurato come una tigre, anche in varie cover passate. La figlia dello stregone può combaciare One Piece con la figura di Yori Kozuki, secondo noi, la quale ha donato a Zoro non dei libri sulle strategie di guerra, ma la leggendaria Enma, la spada di Oden, senza dimenticare, come possibilità, il famoso diario di Oden Kozuki. Chissà. Adesso passiamo alle informazioni che ci sono arrivate attraverso la SBS del volume 96, che ho tradotto io e che trovate in pagina Facebook One Piece Massimo Esperti Italia. Viene rilevato, infatti, che Koshiro, il maestro di Zoro, è il figlio di Kozaburo Shimotsuki, che era il grande forgiatore e maestro spadaio del passato di Wano Kuni. Oda, rispondendo in modo affermativo, ne spiega poi brevemente la storia. Dice che Kozaburo era sia un maestro spadaccino che un maestro spadaio, quindi un forgiatore, e come sappiamo aveva forgiato la Enma e l'aveva regalata a Oden quando era piccolo, ma lui forgiò anche la Wadu Shimonji. 55 anni fa salpò per il mare, andò via quindi da Wano Kuni e partì per la sua grande avventura. Raggiunse l'East Blue, salvando le persone che vivivano su quel posto da alcuni banditi. Poi si innamorò di una donna, mentre insegnava la scherma alle persone che erano di quel piccolo villaggio, in modo tale che potessero difendersi. Quindi però decise così di rimanere lì e formò il villaggio Shimotsuki, o Shimotsuki come preferite dall'accento. Nacque così suo figlio Koshiro, che è il maestro di Zoro, e conseguentemente nacque anche Kuina, la ragazza che era la nipote quindi di Kozaburo e che era l'amica di infanzia di Zoro. Noi sappiamo che Zoro imparò il termine sunnach o sunnach in giapponese proprio da questo vecchio del villaggio. Noi abbiamo scoperto che è proprio il nonno Kozaburo, che era il più anziano del villaggio. Lui lo menzionò ma non ne disse il nome. Sappiamo bene che diversi membri della famiglia Shimotsuki sono già apparsi nella storia. Il primo è Ryuma, poi Yasue, che poi è il defunto ex daimio di Akumai, sua figlia Toko, Kozaburo appunto. Adesso possiamo aggiungere Koshiro e Kuina. E naturalmente poi c'era Ushimaru, il padrone di Onimaru, che prima veniva chiamato Yukimaru, che era il bandito del ponte di Ringo. Ovviamente vi è anche un legame indissolubile con Zoro. In più vi ricordo i simboli delle spade incrociate sul soprabbito di Koshiro, il maestro di Zoro, che erano gli stessi di Yasue quando era giovane nel flashback di Oden. E già da lì con quegli indizi noi vi dicemmo che non potevano essere messi così a caso, ma che erano molti sospetti e che erano probabilmente delle prove affermative. Ricordiamo anche che Shimotsuki significa anche luna gelida. E inoltre è un'antica parola giapponese che significa novembre, che è proprio il mese di nascita del nostro Zoro. Inoltre Shimotsuki è il soprannome che venne dato a Ryuma, The Gold Sword. Vi riporto anche una frase celebre dello scontro fra Zoro e Ryuma, nella quale nelle sue ultime parole furono Se sarai tu il prossimo padrone della Shusui, lo sarà anche la volontà della spada, per richiamare sempre il fatto che l'anima della spada e l'anima dello spadaccino diventano tutt'uno quando iniziano a combattere. Adesso concludiamo con i possibili power-up di Zoro. Attenendoci alla leggenda, la katana Ameno Abakiri dovrebbe essere utilizzata per sconfiggere Orochi, come fece Susanoo, il dio. Seguendo la stessa storia, una volta abbattuto Shogun, Orochi, si dovrebbe trovare all'interno del suo corpo, per la precisione, in una delle code, la famosissima Amano Murakumo, ossia la spada del paradiso, detta anche Kusanagi. Una spada che si dice sia capace di tagliare anche il fuoco, ma di questa situazione ne parleremo ancora tra poco. Vediamo che le tecniche utilizzate da Zoro, le quali molto insegnate da Koshiro, sembrano essere di Wanakuni, come la tecnica utilizzata nello scontro con Mr. Wan. Non può essere un caso, poiché le parole di Yagoro dei fiori coincidono con quelle di Koshiro. Cioè, una buona spada può non tagliare nulla o tagliare qualsiasi cosa. Di fatti, anche l'acciaio. Quindi, Zoro contro Mr. Wan usò inconsciamente il Ryu, ossia l'Aki, con la concentrazione e con l'istinto. Mentre, adesso, lui sicuramente sarà riuscito a padroneggiare questo tipo di Aki, da infondere nelle lame. Ancora di più, con il suo breve ma intenso allenamento, con la famosa Enma, la spada che Zoro annerirà, come detto da Tenguyama e Tesso. Zoro potrà così finalmente tagliare anche il fuoco e potrebbe quindi sia sfidare King, l'incendio calamità di Kaido, ed anche aiutare Rufi nella disfatta di Kaido, con una combinazione di colpi, Kaido, che sarà battuto comunque da Rufi. Da notare come questa tecnica di spada sia stata utilizzata, probabilmente, anche da Koshiro Denjiro, per niscenare la morte di Komurasaki. Quindi questa origine, oramai quasi palese di Zoro con Wano Kuni, questo legame indissolubile, ci lascia proporre delle illazioni che adesso vi proponiamo. Infatti, a me piacerebbe molto che avvenisse questo tipo di situazione per la fine della saga di Wano Kuni. Siccome Zoro, secondo noi, probabilmente si dimostrava un discendente della famiglia Shimotsuki, di padre o di madre, non c'è differenza da quale parte derivi questa origine, quando andrà sulla tomba di Ryuma, cosa che lui più volte spesso ti vuole fare, secondo me, scoprendo i vari segreti e il legame con Ko Zaburo, che è già affoggiato la Emma e la Wano Shimonji, Zoro entra in possesso nuovamente della Shusui. E magari sarà lo stesso Tenguyama e Tetsu a dire che lui la merita, non solo per le grandi gesta fatte, ma per la discendenza, cosicché Zoro restituirà la Sandai a Tenguyama e si prenderà tre spade, sullo stesso livello, sulla stessa forgiatura, ma che sono tutte e tre legate indistinubilmente agli Shimotsuki. Wado Shimonji, Emma e Shusui. Questo perché? Perché, secondo noi, la discendenza a cui lui appartiene potrebbe essere proprio quella con Ushimaru. Infatti, anche Oda, nell'SBS, quando non ha voluto rispondere a quella domanda, ha disegnato il profilo di Ushimaru. Quindi è molto, ma molto, sospetta questa cosa. Inoltre, noi crediamo, sempre nell'ambito delle relazioni, che proprio la Shusui, essendo il tesoro nazionale di Wano Kuni, per cui, secondo la leggenda, sono caduti in disgrazia, rappresenterà, essendo Wano Kuni il Giappone, quello che è il tesoro nazionale, la Kusanagi, per il Giappone, appunto. In questo modo, come ho detto prima, in precedenza, tre spade della stessa fattura, due appartenute e forgiate da Kozaburo Shimotsuki, e l'altra, la Shusui, appartenuta a Ryuma Shimotsuki. Così che tornino tutte quante, affluscano tutte quante in un unico Shimotsuki, quello che noi crediamo che si rivelerà essere Zoro Shimotsuki. Quindi, questo video è finito, fidatevi di me, il capitano, dei massimi esperti, il massimo esperto di Mabisin Italia, di Katakuri, il massimo esperto, ma soprattutto massimo storico anche, dei massimi esperti, Zoro dimostrerà grandi capacità in questa saga, compierà grandi gesta, questa è la sua saga, scoprirà il suo passato come gestato per Sanji, e chiuderà Wano Kuni con un fendente, magari proprio con la Wado Shimon, la spara della promessa, la strada dell'armonia. Ricordatevi di passare dai nostri link in descrizione, One Piece Massimo Esperto Italia, la pagina Facebook dove trattiamo One Piece, e tanto altro dove recensiamo tutti gli altri manga anime e film di animazione, su Instagram, il nostro account, e soprattutto su Telegram, perché YouTube dà problemi con le notifiche, lì troverete i link diretti di video e di live, e alla fine le nostre collaborazioni con Mugivare Italia e Anime Tubers Assemble. Dai massimi esperti è tutto, un saluto, e ricordatevi che qui non ci sono teorie, c'è solo la verità. Massimi esperti di One Piece in Italia, siamo noi, nessun altro.